Sale anche se leggermente la fiducia dei consumatori francesi. L'indice relativo al mese di gennaio è a 100 punti dai 99 di dicembre, mostrandosi in perfetta linea con le stime degli analisti. Un piccolo aumento dovuto ai cambiamenti degli standard di vita degli ultimi 12 mesi. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale, l'indice comunque è in massimi dal 2007. Migliora lievemente anche la fiducia degli imprenditori a febbraio. L'indicatore si attesta a 107 punti, superiore sia alla rilevazione precedente che alle attese fissate su un indice di 106 punti.